Il bosco che è stato indicito è dell'unità, la fede abbatte anche le barriere. Nel tedesco, nel gennaio, è venuto Crisostomo di Ciclo, il Criscoglio di Atene, il Crisostomo di Ciclo, che ha consegnato una regolata formella con una pianta fatta di pietre preziose, che ha detto che le nostre comunità sono con tante pietre preziose, bisogna che riformino un'unica pianta. Che ha pronunciato queste parole, che tutti siano una cosa sola. Vedete come la testimonianza di fede porta il senso di stile.